Investire sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale del Molise significa dare nuova linfa ad un territorio ricco di eccellenze. Cogliere le opportunità derivanti dalle risorse comunitarie vuol dire contribuire alla crescita della Regione Molise. Ha dichiarato così l'assessore Nicola Cavaliere e i titolari delle aziende agricole presenti all'incontro tenutosi questa mattina all'auditorium Gil di Campobasso per la presentazione del programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2023-2027. I fondi disponibili sono di poco superiori a 157 milioni di euro. Gli obiettivi strategici del nuovo programma comprendono promozione di un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che andrà a garantire la sicurezza alimentare, intensificazione della cura per l'ambiente e per il clima in coerenza con quanto previsto dal PSP nazionale e rafforzamento del tessuto socio-economico delle aree rurali. Tra i primi interventi a superficie che saranno attivati è presente l'agricoltura biologica, la produzione integrata, sostegno alle aziende con svantaggi naturali in aree di montagna, gestione, prati e pascoli e allevatori custodi agrobiodiversità. Per quanto riguarda invece l'intervento e investimento sono previsti investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, ambiente, clima, benessere animale, investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, insediamento di giovani ricoltori e proprio su questo tema, tenuto a precisare l'assessore Nicola Cavaliere, l'obiettivo è di rendere possibile ai più giovani la strutturazione di aziende robuste e durature.